e per Grosseto stessi. Assolutamente sì. Ciao, buongiorno, grazie a tutti di essere intervenuti. Che dire, io ho avuto la fortuna di conoscere Ali, di vederlo soprattutto combattere. Lui era... Su padre gli ha dato il nome Muhammad Ali e non era più indovinato. Perché era, forse negli ultimi 25-30 anni, forse uno dei pugili più forti. Aveva tecnica, aveva velocità, aveva potenza e aveva testa soprattutto, era un ragazzo intelligente nello sport, sul ring, che è la cosa più importante in tutti gli sport, e soprattutto nella vita. Poi se leggerete il suo libro, fatelo, capirete che ragazzo è stato, le difficoltà che ha dovuto affrontare, però non ha mai lasciato il suo sogno e è riuscito a raggiungere i traguardi che voleva, sia nel campo dello sport che nella vita. Leggete il libro perché si legge tutto di un fiato. È bellissimo e capite... Tanti ragazzi come lui le difficoltà che devono superare quando vengono all'estero, non conoscono nessuno. e lui è l'esempio, l'esempio di tutto questo. Stasera, se volete venire, sarà una grande cosa, insomma. Allì si allenerà nella nostra palestra, in Bieti Tosperi, alla pugilistica grossetana. Si allenerà con i nostri ragazzi, vedrete che ragazzo è, vedrete che atleta che è, l'allenamento che farà. Lo farà con il nostro maestro presente, che è Simone Giorgetti. L'anno scorso sono laureato campione del Mediterraneo IBF, una delle sigle mondiali più importanti proprio qui in Grosseto. Quindi ragazzi, vi aspetto stasera. Leggete questo libro, ve lo consiglio, vi insegnerà tanto a livello umano. Ci vediamo stasera, se siete presenti. Grazie.